Stiamo parlando di 200 giovani donne e uomini laureati altamente qualificati che hanno prodotto dei risultati importanti in termini diciamo anche di efficacia dell'azione dei centri per l'impiego sul nostro territorio che oggi tra il 2 dicembre e il 31 dicembre corrono il rischio di andare a casa andando ad infoltire le fila non soltanto disoccupati ma probabilmente anche dei giovani che lasciano i nostri territori in cerca di un futuro occupazionale più stabile altrove quindi noi stiamo chiedendo che questi contratti vengano prorogati ma che le proroghe non siano fine a se stesse che siano inserite all'interno di un progetto complessivo di potenziamento dei centri per l'impiego sul nostro territorio soprattutto alla luce della delicatissima fase storica e sociale che stiamo attraversando in questo momento I centri per l'impiego vivono una condizione atavica di sottodimensionamento e stando diciamo ai numeri che noi abbiamo a nostra disposizione queste infornate diciamo di nuove assunzioni non sarebbero comunque adeguate a colmare quella diciamo discrepanza che vi è tra operatori e utenza all'interno dei nostri territori dobbiamo calcolare che generalmente il rapporto è 1 a 700 in questo momento e ci rendiamo conto dell'enorme sproporzione che si vive quindi sono ancora oggi figure utilissime per il nostro territorio a cui bisogna dare delle risposte anche perché purtroppo dobbiamo dire fuori dalle relazioni industriali la politica ha alimentato delle speranze e oggi si deve assumere delle responsabilità rispetto alle promesse che ha fatto Grazie 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 Grazie